Amore, com'è riprendere la connessione, riaprire il cellulare dopo dieci giorni in Africa? Com'è? Brutto, ben in Africa Lui piaceva che io non avessi la connessione E qua chi c'è? C'è Pupi Amore, mamma cosa ti ha portato? Eccola, eccola Cosa ti ha portato mamma? Le abbiamo comprato questo giochino Però io le porto sempre a Pupazzetto L'abbiamo preso nell'aeroporto di Parigi dove abbiamo fatto scalo E' bellissima Hai diventato gente migliore amico? Sì, sì, è tuo, è tua E mamma ti ha portato in Pupazzetto? Chi è? Pupi, te Chi è? Pupi, te Vieni, te Chi è pa? Vai Pupi, vai Adesso dobbiamo aprire tutte le varigie, vabbè, un casino Comunque io, ragazze Vi metto la farina istantanea di Foodspring Che voi sapete è la mia preferita Che utilizzo per questa farina istantanea Per farvi venire dei pancake proprio top Ragazze, buonissimi Io ne metto circa 40 grammi a persona di farina A volte anche 50 grammi E appunto con 150 grammi di albume vi vengono buonissimi E ve li straconsiglio In particolare ve li straconsiglio questa farina d'avena di Foodspring Che è veramente, veramente buona Ed è la cosa migliore da fare a colazione Non solo potete fare i pancake Ma potete fare tante cose Ad esempio anche il porridge Unendolo a un po' di latte vegetale Oppure potete fare anche le mug cake Quelle nel forno a microonde Potete fare tanti dolci, light, tante cose Magari vi farò vedere anche altre cose Se la volete comprare sul sito Foodspring Vi metto il link in box info Trovate tantissime cose buone, naturali e bio Vedete anche questa c'è il marchio bio Biologico E io praticamente l'ho finita Infatti devo riprenderla E usate il mio codice sconto Che è Carlita Y-T Una cosa che vi straconsiglio È questo qua, il burro d'arachidi È buonissimo Ed è veramente veramente buono Da spalmare appunto sui pancake Oppure sulle fette biscottate Eccetera Invece di creme spalmabili Di dubbia Insomma qualità Perché comunque sapete Che la Nutella Eccetera Contengono olio di panno Eccetera Questo è naturale Ed è biologico E vi dà tanta energia Uno o due cucchiaini al giorno Sono ottimi Soprattutto se vi allenate Ed è molto sano Perché praticamente contiene Soltanto arachidi pure Quindi solo le noccioline Senza zuccheri e grassi aggiunti Quindi ve li straconsiglio Adesso vi faccio vedere appunto I pancake Per questa colazione italiana Perché in Africa Praticamente abbiamo mangiato Tutte cose stranissime Quindi io voglio Non vedevo l'ora Di tornare alle mie sane abitudini Con i miei panchicchi E le mie ricette sane Chi stai chattando? Allora Dagli un mostro Dagli un mostro Stai chattando Dagli un mostro Dagli un mostro Ma chi stai chattando? Ehi Ti ho detto no Ti ho detto no Ma come Dai un mostro a me Lui lo legge Ma come Dai come Hai due bacini A me Voleci Ripicchio Eccolo qua Tornerà So che vi è mancato Tutto ciò Potremmo essere Protagonisti di un pezzo Tornerò Io Tornerai Tu E io sarò la stessa Sai tu Ti dico Come ridi io Come ridi io Non mi dobbiamo tutti i temposini a me Che ci siamo mancati Ci siamo mancati Ci siamo mancati Adesso non mi dobbiamo tutti i temposini Tornerà La voglia di ridere Potremmo essere Potremmo essere Potremmo essere Protagonisti di qualsiasi film Tornerò Io Tornerai Tu Ma io sarò la stessa Comunque scherzando 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 Io ho fatto anche le crepe Ballando e scherzando Ho fatto anche le crepe E ho preparato appunto queste crepe Buonissime Vedete col preparato appunto che vi ho detto di food spring E adesso ci vado a mettere il burro di arachidi sopra Buonissimo E ho fatto anche il cappuccino Noterò il tuo buon umore E una camera con vista Ragazze Il mio amore mi ha appena fatto delle foto stupende Vero amore? Perché voglio fare un post per Instagram In cui vi voglio dire tutti i prodotti Adesso si dà rubè Amore Ma cosa fai? Si dorme amore Allora Mi ha interrotto Volevo fare un post su Instagram Dove vi scrivo tutti i prodotti che sto usando per i capelli Perché ho pensato di fare ogni tanto questi post periodici In cui vi consiglio delle routine specifiche per capelli Per viso Da acquistare su Caritas Shop Perché mi scrivete sempre tantissime in privato Ma non ce la faccio a rispondere E quindi spero in questo modo Facendo più post e più contenuti Di rispondere Adesso vi dico anche adesso cosa sto usando Anche per il trucco Perché so che me lo chiederete Allora Vi metto tutti i link dei prodotti nel box info sotto Sulle labbra Ho messo il rossetto Nabla Questo è bellissimo ragazze La matita nera di Nabla E maschera di Nabla E ho usato i vari illuminanti e blush Quelli nuovi sempre di Nabla Che sono fantastici E vi metto tutti i link ai prodotti nel box info sotto Poi mi sono messa i gel Ricardita Giulia A proposito che stiamo rifornendo Perché sono andati tutti sold out Stiamo rifornendo E ci saranno anche novità E adesso vi faccio vedere sui capelli Cosa ho utilizzato E sto usando Che sto amando tantissimo Ma prima vi volevo dire una cosa importante A proposito di Zanzibab Appunto Perché vi volevo raccontare un po' Cosa è successo Avete visto dei vlog E vi volevo dire un po' le mie esperienze Che sono state super super positive Veramente è stato un viaggio fantastico Che consiglio a chiunque Anche se le condizioni sono veramente disagiate Comunque c'è tantissima povertà Però è una bellissima esperienza Rispondo un po' alle domande Che mi avete fatto Che mi avete chiesto in tantissime Non abbiamo fatto il vaccino Perché non c'è la malaria a Zanzibab Non abbiamo fatto nessun tipo di vaccino Non abbiamo preso nessun tipo di precauzione La nostra agenzia di viaggi così ci ha consigliato Non ci ha detto di fare nulla Non abbiamo fatto un'unica cosa Mi sono trovata male Che io ad esempio mi sono portato una valigia Piena di vestiti Che non ho praticamente indossato Il consiglio che vi posso dare Non portatevi una marea di vestiti Perché tanto là Non ci sono discoteche locali Non c'è nulla Non ci sono neanche i supermercati Veramente non c'è nulla Quindi portatevi delle medicine Se vi servono Il caricabatterie Qualsiasi cosa Perché se comunque lo perdete O qualsiasi cosa Là non potete comprare nulla Perché ripeto Non c'è nulla Questo è importante Come vestiti Portatevi poche cose Perché là si vive In modo molto naturale Piuttosto riempite la valigia Di cibo Vestiti che magari Non indossate più Penne Quaderni Materiali Cose da regalare Ai bambini Quando state là Perché davvero Quando poi Vi trovate là Vi dite Oh mio dio Io magari Ci avevo a casa Determinate cose Li potevo portare Che loro là Non hanno nulla Quindi state a sentire Il mio consiglio Fate così E vedrete come vi troverete Contenti Che quando state là Potete fare delle donazioni Potete veramente Sentirvi realizzati Di aver aiutato Queste persone Questi bambini Cos'altro dirvi Amore Cos'altro potrei aggiungere È una vacanza stupenda Non è di lusso Non è New York Non è non c'è nulla davvero C'è tanta povertà Però Hakuna Matata Hakuna Matata Vi resta dentro Ancora qua Quando io mi innervosisco Oppure non riesco a fare qualcosa Che dico Amore Io vorrei fare di più Non sono riuscita a fare Lui dice Amore Hakuna Matata Ma non ti ricordi È vero Cioè nel senso Cioè solo lo dico E già mi fanno gli occhi lucidi Perché veramente Mi ricordo Proprio quelle sensazioni Noi che cantavamo In barca Beh avete visto Noi vlog È proprio È bellissimo Un altro modo proprio di vivere Cioè io ci andrei a vivere In Africa Vero amore Cioè veramente Te ne sbatti di tutto Dei soldi Del lavoro Qualsiasi cosa All'arrivo Senza pensieri È bellissimo E poi le persone Sono super super disponibili Là dovete sapere Come sono carini Che loro cercano Di aiutarti E di farti contento Cioè ti mettono Si mettono al tuo servizio Per accontentarti Molto spesso Non hanno propri mezzi Per accontentarti Perché proprio sono poveri E non hanno nulla Però con quel poco che hanno Cercano di Di accontentarti Sono troppo troppo carini Davvero Nella loro povertà Sono ricchi È vero Però vi dovete adattare È una vacanza in cui voi dovete adattare Dimenticatevi tutti i comfort Dimenticatevi tutto questo Perché comunque Là si vive Sulla barca Cioè si vive così In modo naturale Devi mangiare quello che loro Cucinano per te Sulla spiaggia Con le pentole sporche Le mani sporche Cibo che non sai da dove proviene Ma sapete il sapone Però è buonissimo Il sapone cos'era Il sapone era la sabbia Loro lavavano le pentole con la sabbia E noi oddio abbiamo mangiato qui Però è buonissimo Vi giuro non ho mangiato Vabbè chili di patate Il riso Vabbè La dieta non si può fare assolutamente Che mangiano carboidrati a go go Ma io non ho mai mangiato Delle patatine fritte così buone Come quelle che loro hanno fritto Sulla spiaggia In queste pentole Lavate con la sabbia Con un olio Che noi qua ci preoccupiamo Oh l'olio d'oliva La chissà che l'olio era Però era buonissimo Comunque Bellissimo Quindi vi straconsiglio E io voglio assolutamente Andare anche in qualche altro posto Dell'Africa Magari non su un'isola Come adesso Zanzi Ma perché proprio voglio Voglio ancora di più Esplorare Comunque adesso vi faccio vedere Un po' le prodotte Anche le cose che ho comprato Là Anche se pochissimo Cioè non c'è che c'erano souvenir Risparmi anche Perché non c'è proprio nulla Da comprare Questo è il nuovo specchio Che ho comprato Da Maison du Bon Bellissimo Ho fatto un po' di acquisti Per la casa Allora ragazze Là ho comprato Tantissime spezie E queste sono le cose Che ho portato Come souvenir Alle amiche Perché veramente Cioè non c'era nulla E ovviamente L'ho comprato anche per me Perché lo sapete Io sono patita di spezie Quindi per me Veramente non c'è souvenir Più bello Delle spezie naturali Che poi avete visto nel vlog Il tour delle spezie Ho visto davvero come le raccolgo Quindi sono naturali E bellissime Poi mi sono presa L'olio di cocco Fatto sempre da loro C'era proprio una bancarella Sempre là Il tour delle spezie E' perfumatissimo Ed è poi dice per capelli Vabbè io posso un patita Dell'olio di cocco Quindi Poi mi sono presa Il tè Alla vaniglia Mi sono presa Il caffè Africano Che però E' praticamente Sorpresa E' in chicchi Quindi devo trovare Un metodo Per tritarli E poi mi sono presa Queste cose qua All'aeroporto di Paris Perché non abbiamo fatto Scalo Ho preso questo specchietto E il mio amore Mi ha fatto un regalo A sorpresa Mentre ero fuori E mi ha preso questo qua Un borsello Troppo troppo carino Per i viaggi Una borsetta Una borsetta a borsello Perché comunque Nei viaggi Le borse magari Quelle là Più costose di valore Si possono rovinare Mi ha preso questa qua Che poi posso Anche con l'outfit di oggi Comunque ci sta bene Amore Adesso la indosso Guarda Perché comunque Questo vestitino E' blu e rosso Che bello Adesso la metto subito E poi Questo qua Questo è un altro Di spezie Che ho preso Una mia amica Ne ho presi tantissimi Questi qua Poi ci siamo conservati Tutte le cose Quando abbiamo fatto Il tour delle spezie Che avete visto nel vlog Fatti da loro Che ci hanno messo Questi cappelli in testa L'abbiamo conservato E poi ho comprato Un sacco Un sacco Di questi parei Loro con questi parei Ti vestono Quando li comprate E quando li comprate Fateveli Proprio mettere addosso Loro fanno dei nuti E ve li mettono addosso Diventano dei vestiti Stupendi E poi qua invece Mi sono arrivati Tutte le cose nuove Di Food Spring Che ho preso E che non vedo l'ora Di provare Cioè tante cose Le prendo sempre Perché Sono praticamente cose Che compro sempre Le coconut chips Sono buonissime Tante cose Tipo ad esempio La glutamina Un'integratore Che io prendo sempre E poi Questi qua Non vedo l'ora Di provarli Questi sono i smoothie bowl Cioè con queste palline Si fanno dei frullati Adoro E poi ci sono Tante cose belle Lo shake Ah è nuovo Questo è nuovo Ragazzi Non vedo l'ora Lo shake al caffè Non vedo l'ora Di provarlo E lo shake Al caramello No vabbè Adoro Queste sono tutte le novità E questi smoothie bowl Adesso mi faccio Un bel frullato Sono indecisa Di farmi un frullato O mangiarmi Una barretta Le nostre mitiche Barrette Nocciola E biscotto Lo sapete Sono i miei gusti preferiti E vi ricordo Che per tutte le cose Food Spring Avete il mio codice Carlita YT E risparmiate Un casino Sono prodotti Biologici Naturali Veramente Veramente Top Ragazzi Mi amore Si fa i selfie Anche lui Dario non è molto social Però ogni tanto Anche lui si fa i selfie Guardate cosa mi ha comprato Vero amore Mi ha comprato Questo per stirare I vestiti Che ovviamente Non stirerò io Vero amore Che non so stirare No I scocci Di stirare Che te si Si Poi questo Che lo stendino Per i panni Che non stenderò io Ovviamente Amore Cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è Piccola E adesso vi faccio vedere I prodotti Che sto utilizzando E davvero Ragazze Vi giuro Mi stanno venendo I capelli Stupendi Super super Lucenti Morbidi Guardate come sono lucidi Morbidi E poi la cosa che mi piace È che hanno volume Vedete Cioè Mi piace proprio Sta brillantezza E soprattutto Per combattere La caduta E rinforzare Perché in questo periodo Iniziano a cadere Quindi noi partiamo Prevenire E meglio che curare Lei si è messa qua Per assistere È vero amore Allora Questa qua ragazzi È una maschera Fenomenale Che ristruttura i capelli A base di estratti vegetali Che rinforzano Proprio il cuoio capelluto E spessisce i capelli E ne fa crescere Proprio di più E i capelli Vengono Super super lucidi Morbidi Ristrutturati È favolosa Io la uso come maschera Pre shampoo C'è anche scritto dietro E la lascio in posa Trenta minuti Un'oretta Poi mi lavo i capelli E vi giuro Sembra proprio Che io Ho fatto Chi sa quale trattamento Ristrutturante È a base Di estratti E oli naturali Che usano Le donne indiane Infatti Ha un odore Un po' forte Che è proprio caratteristico Però io lo amo Io lo adoro tantissimo Tipo di nocciola Di erbe Buonissimo Quando l'applicate Massaggiatela Anche sul cuoio capelluto Infatti Vedete scalp Anche sul cuoio capelluto Poi la mettete Su tutte le lunghezze La lasciate in posa E poi vi lavate È una maschera Veramente Per la crescita dei capelli Ristrutturante Fenomenale Vi metto il link Di tutti i prodotti Nel box info sotto E come al solito Trovate tutto Su Caritas Shop Perché li abbiamo appena riforniti Era andato tutto a ruba In estate E come shampoo Sto usando questo Che è volumizzante È un profumo di cocco Buonissimo Ragazzi Lo amo La cosa bella È che è volumizzante Quindi lascia i capelli Molto Belli voluminosi Non le appiattisce E poi il profumo È fantastico E ci abbino Questa maschera bio Questa è stupenda La maschera ristrutturante Rigenerante Che però Non le appesantisce Quindi va bene Sia che la avete ricci Sia che la avete lisci Va benissimo Ed è favolosa Questa la metto sui capelli La lascio in posa 10 minuti E poi mi sciacquo Quindi come Un normale maschera Post shampoo La alterno al balsamo Ossia un lavaggio Faccio col balsamo E un lavaggio Metto anche la maschera In questo modo Non le appesantisco Questo balsamo Anche ottimo Perché è molto districante Attivatore di lucide Quindi Illumina tantissimo I capelli Quindi questa è la routine Di lavaggio E poi dopo Per asciugarli I prodotti di styling Che mi osserva Sono questi qua Questo è praticamente finito Ve ne ho parlato Già nei vlog In estate Lo amo È un siero Spray anticrespo Che non unge Ed è ottimo Sia per capelli lisci Che ricci Ragazzi Non ne faccio mai a meno È fenomenale È una bomba Veramente provatelo Perché toglie L'effetto crespo Disciplina i capelli È veramente ottimo Se avete i capelli Crispi e ribelli È fenomenale La cosa bella È che non li sporca E poi uso anche Questo spray qua Questo è uno spray Volumizzante Infatti extra volume Che quindi Questo qua Dà il volume I capelli Anche li disciplina E li rende Veramente voluminosi Luminosi E morbidi Anche questo lo amo Tantissimo E poi uso Questo qua Lo uso sempre Il termoprotettore È fantastico È anche un effetto Anticrespo Lucidante Tipo I semi Di Non avete presente I semi Di lino Quelli oleosi Che si vendevano Che poi alla fine Erano siliconi Questa è la versione naturale Quindi che va messo Sulle punte E un pochino Sulle lunghezze Non unge Tipo Un Evapora Quando lo mettete Non lo sentite quasi Idrata tantissimo Ed è ottimo Anche contro Le punte spezzate Le punte secche È fortificante Illuminante Protegge Dal calore Della piastra Del phon Eccetera E comunque Io anche se le asciugo All'aria Lo metto Perché vi ripeto Disciplina Illumina E nutre le punte E poi Infine Questo Un altro prodotto Che vi straconsiglio Che uso sempre Però sia la lacca La lacca spray Adesso me la metto Un po' Vi faccio vedere Perché praticamente Questa qua Non sporca E non incolla Non appiccica A differenza Dei soliti prodotti Delle solite lacche Questa qua Praticamente È molto molto Leggera Vedete È molto Io faccio così E poi Faccio così Con i capelli Li fissa Ma non le appiccica In più Ha un ottimo profumo Di cocco Quindi Ve la straconsiglio Vi metto tutti i link In box info Questa è la mia routine capelli Chiedetemi nei commenti Qualche routine specifica Ad esempio Vorrei farne una Sul viso Sulla pulizia del viso Post estate Insomma Chiedetemi voi Così vi faccio Vedere nei prossimi video Qualcosa a vostra richiesta Ragazzi Spuntino Qua la barretta Gusto cookie Il latte di cocco È buono È buono Anche se ha un sapore Molto naturale Comunque Prima di chiudere il video Ci tenevo un po' No Darvi delle spiegazioni No Perché ormai Lo sapete Che io Devo fare polemica A rispondere Alle provocazioni E dare spiegazioni Però Ci tenevo a spiegare Questa cosa Della beneficenza Quello che voi avete visto Nei video Quindi l'incontro Con i bambini Che lo abbiamo fatto Abbiamo portato il cibo I biscotti Eccetera Non era beneficenza Cioè semplicemente Un incontro Che abbiamo avuto Con loro Un bellissimo momento Ma la beneficenza Che noi abbiamo fatto Ovviamente Non l'abbiamo registrata Perché Secondo me La beneficenza È una cosa Molto personale Non va Comunque Filmata Insomma L'importante È che ci sia stata E anzi Noi stiamo Anche organizzando Delle spedizioni Appunto Per spedire Ci siamo fatti Gli indirizzi Per spedire loro Tutto quello Che gli occorre Insomma Stiamo facendo Delle belle cose La cosa Che mi dispiace È che ci sono Molte persone Che su internet Veramente Si basano Su quello Che vedono Ci hanno Tanti pregiudizi Giudicano Senza capire Subito È in modo Molto violento Veramente Veramente Offendendoti E criticando Di modo Molto pesante Veramente Come se Noi Che siamo Persone esposte Ci esponiamo Noi Influencer Youtuber Le persone Insomma Anche VIP Quelli dello spettacolo Dovessimo essere Per forza Bersaglio Di tutti questi Insulti E queste cose Ma Si dovrebbe avere Comunque Un po' Più di delicatezza Soprattutto L'intelligenza Di capire Determinate cose Perché Comunque Come si fa La beneficenza Alcune persone Si danno Ma la beneficenza Cosa ti pensi Che hai dato loro Dei biscottini Vi dico che mi hanno detto Le peggio parolacce Cosa pensi Se è solo questo Se è solo quello Ma ragazzi Io potrei aver donato Un milione di euro E voi non lo sapete Non lo sapreste mai Nel frattempo Mi avete dato Della S Perché io Ho dato Dei biscottini Ma questo è quello Che ho voluto Far vedere Ma in realtà Quello che ho fatto Non ve lo faccio vedere Semplicemente Perché l'importante È che ci sia stato Ma non è importante Che insomma Filmarlo Questa è la cosa Che ci tengo a dire Ed è veramente Ormai ci sono due Facciate Quello che si vede In internet E quello che esiste Realmente E molto spesso Le persone pensano Che quello che c'è In internet O su instagram In internet Se una persona È felice Su internet Nelle foto O su instagram Allora è felice Nella vita Ragazzi Ma non è così Alcune volte Io vedo Delle foto Di Felici Così con la E poi Nella vita Di tutti i giorni Magari Quella Mi ha passato La giornata Sul divano Chiuse in casa Voglio dire Quindi io Cerco di essere felice E di fare Delle cose Reali Nella mia vita Reale E quello Perché poi Su internet Quello che si dice A me Non interessa Più di tanto Perché comunque C'è Sono cose Che rimangono Là Dette da persone Che non conosco Nemmeno Che non sanno Nulla di me Quindi alla fine Cioè cosa cavolo Dovrebbe fregarmene Mi importa Quello che pensano Di me Le persone Che incontro Ogni giorno Che vedo Ogni giorno Quello che faccio Io realmente Non Che vi faccio Vedere In un video Nel video Voi vedete Quello che la persona Ha deciso Di farvi vedere Ma non vedete Realmente Vabbè È una questione Troppo grande Comunque Il succo è Vivete Nella vita Reale Perché Anche ci sono persone Che si sentono Importanti E si sentono Brave A insultare A commentare A ricevere I pollici Per i non insulti Ma posso assicurare Che non ci sono premi Per voi Quello che Dovete dimostrare Di valere Nella vita reale Non commentando E dicendo Le cose Su internet Veramente Fatevi rispettare E ottenete Le cose Nella realtà Vabbè È un discorso Troppo ampio Che è anche un po' Sprecato Però Vi assicuro Che Sono Un livello Troppo superiore Che tutto quello che dico È veramente Sprecato Però La cosa importante È che la beneficenza Sia stata fatta Che poi Non si sa Ok Se l'ho fatto L'ho fatta E voi dice Allora la voglio ostentare Non si sa Se l'ho fatto Non l'ho fatta Ma sicuramente Ho fatto qualcosa Più di voi Che mi avete Offeso E mi avete detto Ah se andate Fatto questo Io ho passato Momenti bellissimi Con questi bambini Veramente A parte tutto Io ho regalato Tanti sorrisi E momenti Fantastici Quindi qualcosa Di più di voi Sicuramente Ho fatto Questo è quanto Ragazze Sempre col sorriso Perché non me ne può fregare Di meno Vi mando Tanti baci 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 E ci vediamo Al prossimo video Oddio Questi capelli Oddio Stasera usciamo Io e Dario Andiamo a cena fuori Però non voglio Filmare Quindi interrompo Qua il vlog Perché voglio Godermi la serata Con lui Perché Sempre per il discorso Che voglio vivere Nella vita reale E non Nei social Insomma Vorrei che il mio ragazzo Mi ricordasse Come una persona Normale Non sempre con videocamera E cellulare in mano Quindi Ci posso riuscire E riusciteci anche voi Ogni tanto Spignete il cellulare Guardate prima i miei video E poi spignete il cellulare Ciao Grazie a tutti Qui Ho Sono Voi 15 I S S S Grazie per la visione